Musica Amici sportivi buonasera ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News Giuseppe Murigno sarà l'allenatore della Roma a partire dalla prossima stagione Una notizia clamorosa, l'annuncio è stato dato proprio dalla società capitolina quest'oggi Sembrava fatta per il trasferimento di Sarri alla guida dei giallorossi a partire dalla prossima annata Invece ci sarà il portoghese, ne parliamo con Raimondo De Magistris Un fulmine a cielo sereno, la notizia è di quelle che non ti aspetti Ciao Lorenzo, buonasera per commentare l'annuncio della Roma Jose Murigno che sarà il nuovo allenatore della squadra giallorossa per i prossimi tre anni Annuncio sorprendente perché tutti dopo il divorzio da Paolo Fonseca Ha sancito nei fatti nella giornata di ieri con l'incontro a Trigori E nelle parole questa mattina con il comunicato ufficiale Aspettavano adesso il via libera per la Prodo nella capitale di Maurizio Sarri Ma così non sarà perché da 15 giorni subito dopo Le sole ero dal Tottenham a Murigno Ha iniziato a trattare con la Roma E questa trattativa è stata ufficializzata oggi con un contratto triennale Ed è un annuncio sorprendente Perché la prima risposta vera e concreta dei Friedkin da quando sono nella Roma Finora non hanno mai parlato Ma oggi con i fatti dimostrano di voler costruire una squadra vincente E ingaggiando uno dei allenatori più vincenti della storia del calcio Perché dal Porto, dall'Europa League col Porto nel 2002 ad oggi Murigno ha conquistato 25 trofei Due Europa League, due Champions Una col Porto e una con l'Inter Il Triplete con i Nerazzurri E poi il Real Madrid Il Chelsea Riscritta la storia dei Blues Insomma, Murigno è un icone Più di un allenatore Un grandissimo manager E certamente la Roma affidandosi a lui Fa capire quale sarà il progetto della Roma che verrà Certo, c'è una squadra completamente da ristrutturare Da ricostruire Tanti giocatori sono a fine ciclo Tanti sono a scadenza E a loro non verrà rinnovato il contratto Però Murigno non lo assicondi solo con i giovani Solo con stagioni di transizione Se arriva Murigno L'obiettivo è chiaro Vuoi vincere Vuoi costruire una grande squadra E il segnale oggi è stato di quelli importantissimi Perché la Roma riparte dallo Special One La Roma riparte da uno degli allenatori più importanti della storia del calcio Continuiamo a parlare della Roma Lo facciamo con Giorgio Martino Ciao Giorgio, buonasera Buonasera a voi Buonasera a tutti Dunque, Giuseppe Murigno Sarai il nuovo allenatore della Roma nella prossima stagione Una notizia abbastanza sorprendente Visto che da molti veniva dato Indirittura ad arrivo Sarri come tecnico giallorosso È una notizia che conferma la atipicità della dirigenza della Roma O meglio, più che della dirigenza Direi della proprietà della Roma I Fritkin Che fra l'altro ancora non hanno mai detto una parola che sia una Hanno in questo primo anno Quanto meno in questa prima stagione Dimostrato di avere proprio un comportamento Un atteggiamento totalmente fuori degli schemi tradizionali del calcio Sia dal punto di vista comunicativo Sia dal punto di vista delle decisioni Evidentemente Io credo che il fatto che Giuseppe Murigno Stesse a Londra in questi giorni Si fosse liberato Con il divorzio dal Tottenham In questi giorni Abbia facilitato questo tipo di contatto E di conseguenza Forse la prima cosa che è sembrata evidente Nel momento in cui gli era sembrata finalmente evidente La necessità di eliminare Fonseca Fosse quella di rivolgersi a una persona Che avesse carisma, prestigio E che quindi fosse in grado Di attirare a sé Di coagulare Non solo l'interesse, la curiosità, la passione Ma anche direi tutte le forze Anche la passione dei tifosi Sicuramente la depressione che è seguita Ai due anni di Fonseca Aveva bisogno di una scossa Che con tutto il rispetto e l'affetto Per Maurizio Sarri Probabilmente la figura di Sarri non aveva Cioè quando si dice c'è bisogno di una scossa E c'è bisogno di una scossa Ma non di una scossetta piccola Proprio c'era bisogno veramente di un fulmine a ciel sereno Come è stata del resto la notizia Era necessario che ci fosse un qualche cosa di eclatante e clamoroso Ecco Mourinho ha anche le spalle larghe per reggere le pressioni di Roma Anche se non è più il Mourinho dell'Inter del Triplete Stabiliamo una cosa I grandi allenatori del passato A cui io devo necessariamente rifarmi per motivi di età Erano consapevoli che il peso specifico di un allenatore Raramente va oltre il 20% Nel bene e nel male Anzi dicevano spesso Questo lo diceva soprattutto Lidl Ma il 20% nel bene Magari nel male possiamo anche valere il 40% e il 50% E lo ha dimostrato Fonseca Perché nel male Fonseca Ha pesato più del 20% In negativo Quindi Non credo che sia così automatico Viene Mourinho La Roma vince Non è così automatico Però io credo che oggi la figura di Mourinho Più che quella che porta la vittoria immediata Sia quella che riesce a evitare la depressione Cioè dà appunto questa scossa Che annienta quella depressione Che stava in qualche modo schiacciando Opprimendo non solo la tifoseria Ma direi tutto quanto l'ambiente In un certo senso Paradossalmente È una scossa anche dentro lo spogliatoio Perché è chiaro che Della rosa dei 20-25 che ci sono ora Sicuramente ci saranno dei cambiamenti Ma certamente Quelli che stanno ora dentro lo spogliatoio Sapendo che l'anno prossimo L'allenatore sarà Mourinho E non Fonseca Cominciano a fare un pensierino Alla opportunità Di destare il suo interesse È importante questo Anche i giocatori adesso rifletteranno molto Su questo fatto Un conto era la Roma di Fonseca Che chiunque poteva Poteva assolutamente Schiaffeggiare E la Roma ne ha presi di schiaffi Ma non soltanto dal punto di vista tecnico Proprio dal punto di vista della società Oggi è un po' meno facile E quindi oggi Forse tutti Tutti cominciano a riflettere Prima di aprire bocca E con Mourinho A tuo parere arriverà anche Una rivoluzione societaria Ci saranno magari Dei dirigenti Più esperti Più Non voglio dire capaci Ma comunque insomma Che abbiano alle spalle Un curriculum diverso Mi auguro Mi auguro È vero Tutto quello che ho detto adesso Del grande prestigio Della persona E quindi sicuramente Lui ora in questo momento È un grande ombrello Che appunto copre Tutto quello che prima sovrastava E finiva per schiacciare Però attenzione Per quanto l'ombrello Possa essere grande E prestigioso E poi non può far tutto E anzi Sarebbe un errore Fargli fare tutto Io credo Che sarà opportuno Mettere Mourinho Mourinho responsabile Dell'aspetto tecnico Però anche contemporaneamente Mettere delle figure Di competenze Specifiche Calcistiche All'interno della società Perché finora Purtroppo Non ci sono state La O meglio Le due proprietà americane Finora hanno brillato Proprio per la totale assenza Di competenza Calcistica Quindi va benissimo Mourinho Soprattutto in questo momento Ma è necessario Che insieme a Mourinho Ci sia Ci sia una competenza Calcistica E con Mourinho Secondo te Poi Quanti rinforzi Saranno necessari Per il suo calcio Che chiaramente Non è quello di Sarri Non è quello di Sarri Forse Se oggi ci sono 25 giocatori Lui potrebbe chiederne Pure 30 Se quello è il suo stile Ma a parte Le battute Io credo comunque Che In ogni caso Sarà necessario Rispettare La sua richiesta Non tanto Per il numero Se l'allenatore Ti dice Che vuole Un certo tipo Di portiere Un certo tipo Di attaccante Un certo tipo Di difensore Tu devi fare In modo Da soddisfare Questo tipo Di richiesta È essenziale Che ci sia Sintonia Fra quella Che è la veduta Tecnica Dell'allenatore E quella Che la società Gli mette a disposizione Perché se ricominciamo Poi se no Arriviamo addirittura Il ridicolo Del Fonseca Che domenica sera Ha detto Eh ma noi Non siamo Da quarto posto Noi siamo Da settimo posto Eh no Non va più bene Una cosa Una cosa del genere Lui si è Si era già Bruciato prima Però con questa frase Proprio Ha bruciato L'ultima Cosettina Che fosse rimasta Ancora non bruciata Perfetto Giorgio Grazie per il tuo intervento Buon proseguimento di serata Ciao Grazie Buon lavoro Oggi è il ricordo Del grande Torino Che è morto 72 anni fa Nella tragedia Di Superga Ne ha parlato anche Il presidente De Granata Urbano Cairo Che si è poi soffermato Anche sull'attualità E sulla vittoria Della sua squadra Ieri contro il Parma Sentiamo Cairo Questo è un giorno Veramente Molto molto speciale Per noi Per noi tutti Lo è in particolar modo Per i familiari Che oltre ad aver perso Dei campioni Del Toro Hanno perso Il papà Piuttosto che Che un familiare stretto Per cui insomma Veramente Lì Davvero Qualcosa di Molto 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 Particolare Era una partita Importante Molto sentita Era fondamentale Vincere Ce l'abbiamo fatta Avendo anche Tante occasioni Però insomma Poi Quando le partite Sono così sentite A volte Prendi i pali Traverse Di tutto e di più Però insomma Direi bene Era importante vincere Ce l'abbiamo fatta La squadra Mi sembra che Stia facendo Passi avanti Pur In un contesto Di complessità Perché Insomma Dover giocare Dover giocare Per fare punti A tutti i costi A volte Come dire Ti dà Un po' di blocco In più Però invece Devo dire Che stanno Facendo bene Hanno rimontato Tante volte Abbiamo vinto In finale Alcune partite Quindi insomma Direi La squadra Ha dato Segnali molto forti Quindi Devo dire Bravi loro Bravissimo Nicola Che è riuscito A rinsaldare tutti E ha fatto Un bellissimo Lavoro Che ieri sera Ha fatto Un bellissimo gol Peccato che era In fuorigioco Di qualche centimetro Ha preso un palo Si è dato Un da fare nero Come sempre No Direi che insomma Sta facendo Comunque Comunque Sempre bene Insomma Avere in campo Lui comunque sia Anche se magari Non fa gol In quella partita Vuol dire Comunque sia Avere due Due calciatori Avversari Che lo marcano Quindi vuol dire Avere degli spazi Per altri Quindi insomma Direi che Poi siamo una squadra Quello che conta è È bello anche vedere Che 17 giocatori Siamo la squadra Insieme all'Udinese Mi pare che ha Che ha portato Più calciatori al gol 17 Quindi insomma Vuol dire Vuol dire veramente Vuol dire veramente Che c'è Una squadra Dove tutti Danno Contribuiscono E E fanno gol E questo è Molto bello Una gran cosa Queste dunque Erano le parole Di Urbano Cairo Intanto Saluto Rosario Rampanti Ciao Rosario Benvenuto Buonasera Ciao Ti chiedo innanzitutto Da Granata Che cosa è stato per te Il Grande Torino Anche se è rinato Da poco Beh intanto Io sono nato Nel 49 Quindi era destino Che Bambino A Torino Io Scegliessi Il Torino Per andare A cominciare La mia carriera Quindi Chissà Questo è stato Il segno La mia nascita La mia carriera Comunato Il Grande Torino Poi Io sono vissuto Nel Filadelfia Quindi sono cresciuto Quindi sono cresciuto lì Filadelfia Quindi questo anniversario È sempre toccante per me L'attualità Adesso Il Torino Ieri ha ottenuto Altri tre punti preziosi Contro il Parma Un bel passo Verso la salvezza Sì Tieni presente Che insomma Il cammino È ancora lungo Io Tempo fa Dissi Che piano piano Sarebbero state risucchiate Benevento E Spezia Come sta avvenendo Il Torino Ha il potenziale tecnico Superiore A queste squadre Come ce l'ha anche Il Cagliari E il futuro Insomma È sempre incerto Però Guardando bene Il calendario Il Torino Deve giocare Col Verona Col Mila Recupero Con la Lazio Spezia Benevento Deve riuscire Ad arrivare All'ultima partita Col Benevento Ed avere Almeno quattro punti Di vantaggio Non avere problemi In quella partita Lì Ecco Domenica Mi sembra abbastanza Agevole Tenendo presente Che con certe squadre Che lottano Per le prime posizioni In classifica Hai poche speranze Però per esempio Il Verona Non c'ha più ambizione E lì Metà classifica Quindi Probabilmente Io penso Che si possa Fare qualche punto Lì E poi Te lo giochi Insomma Con lo Spezia Ma il potenziale Tecnico del Torino È superiore A queste squadre Ecco Quindi insomma La partita Di domenica Contro il Verona Tra virgolette Non ti preoccupa Nel senso Che la squadra Di Juric Non ha Adesso Più nulla Da chiedere Dal campionato Niente Il Torino Però deve Essere come Le ultime partite Non l'ultimissima Non è che mi sia Piaciuto molto Nell'ultima partita Però insomma L'ha affrontata Nel modo giusto Il Parma Ha molti punti In meno In classifica Il Parma Era già spacciato Prima Quindi È stato abbastanza Agevole Secondo me Col Verona Deve essere Ben concentrato E sapere Che il potenziale Verona Ha dimostrato Di essere Forte Però Le ambizioni Le Come dire La determinazione Dovrebbe essere Più del Torino Perché il Torino Che ha un obiettivo Importante Il Verona Non ce l'ha più Ieri tra i migliori Se non il migliore In assoluto Ansaldi Lo vedresti bene Anche nella prossima Stagione nel Torino Ma Ansaldi Al di là degli infortuni Che ha avuto Negli anni passati È sempre stato Un giocatore Superiore Alla media Del Torino Quindi Ha giocato bene Ha dimostrato Di avere grandi qualità tecniche Come aveva dimostrato In passato Quest'anno Sta avendo Un pochino Più di continuità Deve continuare così E secondo me Perché non fare Il contratto Anche per il prossimo anno Anche se mi da Mi assicura Metà partite Di tutto il campionato Ansaldi Io me lo terrei caro Per quanto riguarda La prossima stagione Poi ci sarà Da valutare bene La situazione E capire Quali saranno Gli innesti giusti Guarda L'esperienza Del recente Passato Insegna Che È importante Per le squadre Azzeccare bene Gli arrivi E le partenze Le partenze Tante volte Spesso sono condizionate Dal mercato Meno condizionati Sono gli arrivi Perché una cosa È Vendere È sempre più Difficile Comprare È facile Però il Torino Cos'ha sbagliato Quest'anno Ha sbagliato Gli acquisti Parlo del mercato Di 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 Del precampionato Meno male Che ha zaccato Questi ultimi Due arrivi Che sono Sanardi E Mandragora Che hanno dato Qualcosa in più E hanno assicurato Al Torino Secondo me La salvezza Quindi bisogna Che il Torino Si prepari bene Al mercato Che verrà A fine campionato E lì Bisogna Essere più capaci Di quanto Hanno fatto In passato Coloro Che erano incaricati Parlo Dell'allenatore Di direttore sportivo Rosario Grazie per il tuo intervento Buona serata Ciao Grazie a te Saluti Con il capo di ieri Contro il Torino Il Parma È ufficialmente In Serie B E non l'hanno presa bene I tifosi giallo-blu Sentiamo A questo proposito Il nostro corrispondente Nicolo Pasta Il Parma Saluta la Serie A Dopo tre anni Dalla sua promozione E torna In Serie B Al termine di una stagione Disastrosa Sotto ogni Punto di vista Con soli 20 punti raccolti Con il peggiore attacco Del campionato La seconda peggiore difesa E solo tre vittorie In tutta la stagione Peggio Nei primi cinque campionati Ha fatto solo lo Schalke 04 Con due sole vittorie Il Parma È stato riaccolto Questa notte Dal tifo crociato Con due scritte Che si sono Che sono apparse Al centro sportivo Di Collecchio Una Che Invita la squadra A vergognarsi Di fatto Con un Parma Vi schifa E un'altra Che non possiamo Neanche ripetere Viste le parole scritte Già Nelle scorse settimane Il tifo crociato Si era esposto Contro la squadra Con Stricioni Uno Soprattutto Dopo la sconfitta Con il Cagliari In rimonta In un modo Veramente Rocambolesco Che aveva di fatto Sancito La retrocessione In Casa Parma Al momento Non si parla Di contestazione Solo questi due Messaggi Scritti dal Dal tifo crociato Che nelle scorse settimane Per tutto l'anno Si era schierato Al fianco Della squadra Nonostante i pessimi risultati E che però Sancita la matematica A retrocessione Ha voluto esprimere Tutto il suo disappunto Per il Parma Adesso si aspettano Un paio di settimane Molto turbolente C'è una serie B Da preparare Una serie B Da pianificare E Il futuro Di Roberto D'Aversa Della società E di molti giocatori È ancora in bilico E non si sa Chi ripartirà Il prossimo anno Dalla serie B Con il Parma Siamo dunque Arrivati ai saluti Siamo alla conclusione Di questa edizione Della TMV News Ci ritroveremo Come sempre domani Grazie a tutti Per averci seguito Buon proseguimento Di serata Grazie a tutti